Exoratix, stai cercando un SUV confortevole e affidabile? Volkswagen Tiguan, 2.000 di cilindrata, 150 cavalli, allestimento business. Stiamo parlando di un autoveicolo aziendale che ha percorso poco meno di 50.000 km e che è certificato e garantito perché come tutte le nostre autovetture deve aver superato il test dei 150 punti di controllo dei nostri automotive expert. Alimentazione diesel per un consumo reale medio di 4,7 litri ogni 100 km. Le linee sono nette e definite e bellissimi sono i giochi di luce delle scanalature che troviamo sul copano e che la rendono un po' sportiva. Tripla striscia parallela cromata sulla mascherina del frontale, barre al tetto e anche la finestratura alla bordatura sia superiore che inferiore cromata. I cerchi sono in lega da 18 pollici e il battistrada è in perfette condizioni. Il SUV perfetto per famiglie e per chi trascorre moltissimo tempo in auto e vuole dominare la strada ma viaggiare sempre con personalità. Il bagagliaio è molto ben sagomato ed è dotato di presa da 12 volte luce alogena di cortesia sulla destra e parte da una capienza di 615 litri. Abbattiamo le sedute posteriori con questa pratica leva e abbattendo entrambe le sedute posteriori frazionabili 60-40 arriviamo a circa 1000 litri di capienza. Nonostante sia un SUV e abbia quindi l'assetto rialzato, è agevolissimo accedere all'abitacolo grazie all'ampio angolo di apertura delle portiere. All'interno troviamo tantissimo comfort, eleganza, comodità e luminosità grazie all'ampia finestratura e al cielo chiaro. Le sedute sono in tessuto sagomate con cuciture a vista, sostegno laterale e dotate di attacchi isofix a entrambe le sedute esterne e posteriori. Inoltre lo schienale del passeggero centrale diventa un praticissimo bracciolo con doppio portabibite. Presa da 12 volte, bocchette dell'ariazione alla fine del tunnel centrale dedicata ai passeggeri posteriori. Meno di 50.000 km percorsi e la parte centrale del quadro strumenti è interamente digitale. La plancia è minimalista, tipica di Volkswagen, ma non manca certo tutta la tecnologia di cui abbiamo bisogno. A partire dal volante che è in pelle a tre razze con inserti cromati e numerosissimi tassi tra cui il comando vocale per la gestione delle telefonate e sulla sinistra troviamo il cruise control con limitatori di velocità. Mentre dal praticissimo display incassonato sotto alle bocchette dell'ariazione al centro della plancia possiamo gestire tutto l'infotainment. Abbiamo accesso alla radio, ai media, possiamo connettere il nostro smartphone attraverso bluetooth oppure attraverso Apple CarPlay e Android Auto del pacchetto MirrorLink. Abbiamo accesso alla navigazione e possiamo anche accedere a tutte le impostazioni di setup della vettura. Inferiormente troviamo le manopole analogiche per la gestione del clima che è automatico e bizona. Ancora più in basso un praticissimo vano porta oggetti con antiscivolo presa da 12 volt, presa USB, ingresso AUX. Il cambio è manuale a sei rapporti mentre il freno di stazionamento è elettrico. E troviamo un vano porta oggetti con porta bibite a scomparsa al centro del tunnel centrale e un ulteriore pozzetto sotto al bracciolo centrale. Ancora più ergonomiche, avvolgenti e confortevoli sono le sedute anteriori con sostegno laterale e supporto lombare morbidissime. Inserendo la retro inoltre abbiamo accesso ai sensori di parcheggio perimetrali per parcheggi no stress. Corri subito sul nostro sito raffiauto.com Riserva la tua auto con un semplice click per 7 giorni con soli 100 euro e prenota una video call con uno dei nostri sales. Potrai ricevere la tua auto direttamente a casa tua con il nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione e garanzia europea garantito in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social. Alla prossima auto! Alla prossima!